Queste sono le LOL Surprise, comprate al negozio di giocattoli 15€ Già ne abbiamo aperto una e abbiamo trovato questa tipo Lady Gaga Troppo bellina Vediamo qua cosa troveremo Primo strato Il fantasmino Un po' complicato, è dura la carta, ma la carta è molto dura Come sono belline queste parti Le carte che si tolgono sono belle Perché sopra ci sono le bamboline disegnate Ogni strada c'è comunque ogni volta una bambolina disegnata Anche questa è rosa, però è un rosa più scuro Questa è un rosa invece più pallido Guarda, sono due tipi di rose le palle Ecco, dove c'è la cerniera praticamente Quindi sono due rose differenti le due palline È diverso il biberone È un altro tipo, questo è un altro modello proprio Sì È vero Sì Il biberone è diverso Quindi già la bambolina non è quella È un'altra Oh, che bellina Che carino Ci deve stare anche il vestito Qua dentro sta il vestito Vabbè, prendiamo prima la bambolina Ah, prima il vestito, dai Da abbinare agli stivaletti bianco e nero Oh, che carino Com'è bellino Cioè, non mi dire che è quella con gli occhiali che voglio io Sì, è lei Che ho detto che sarà impossibile trovarla Andiamo avanti Vai, prendi gli occhiali Devono uscire gli occhiali da lì No, si devono stare gli occhialini Non voglio morire Io rido Perché mi viene da ridere Eccola qua Eccola Con gli occhialini Come sei bellina Dai, sono belle Tu sei tu Pure la Lady Gaga Vabbè, poi ci dobbiamo mettere il vestitivo Non sta nuda Non ci posso credere Molto belline comunque Costano molto Però Sono particolari No, diciamo A questo prezzo Io sono del parere Che si dovevano scegliere 15 euro Ecco qua Quindi Le volete far pagare 15 Fatele scegliere Poi una cosa Non prende neanche i doppi Vabbè, comunque è andata bene Sono uscite due davvero molto belle Tutte e due Bellissime Ok Belle Ciao a tutti Ciao, 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 ciao